Ovviamente una parte molto importante per la nostra gag è appunto vita, giusto? Allora portiamo le gambe destra lateralmente e cominciamo a alzarla, ok? Controllo che le gambe di sostegno è leggermente divaricata la punta, ok? Genocchio segue sempre la punta. Ok, adesso abbassati le spalle, ok? Le spalle e le anche si vanno a chiudere, non è un gioco di braccia e di gamba, quanto di spalla e di anca, ok? Passano avanti e passano indietro, addominali, addominali, va! Ok, continui, andiamo, otto, torno indietro, sette, torno indietro, continui, addominali tesi e state provando di chiudere proprio il punto vita, chiudi, chiudi ancora, continui, quattro, tre, due, adesso facciamo in torsione, torsione, chiusura, torsione, chiusura, torsione, chiusura, torsione, ancora, quattro, chiudo, tre, chiudo, due, chiudo e stop! Eccellente! Allora, quello che stiamo provando di fare è chiudere questo spazio, ok? Dalla spalla alle anche, esattamente dove parte il nostro punto vita, ok? Allora, divarico un po' il ginocchio, divarico un po' il piede, ok? E comincia ad alzare le gambe, ok? E abbasso le spalle, vai, 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 ancora, otto, sette, sei, sei, cinque, quattro, tre, adesso facciamo con un torsione, così, Vado, torsione, chiudo e torsione, addominali tesi, mi raccomando, quattro, continui a sorridere, che sai che c'è un bel lavoro per tutto il tuo corpo, specialmente oggi, il nostro addominali, ancora, otto, chiudo e chiudo, e sette e otto, eccellente! Ti aspetto al prossimo esercizio insieme con Turbo Gag! Pronti per un altro esercizio insieme per il nostro Turbo Gag! Il nostro Turbo Gag! Allora, sedetevi su un gluteo soltanto, ok? Stenditi, dobbiamo sollevarci e scendere, su e giù! Quattro, tre, due! Rimango su, tengo la posizione, tieni, ancora, ancora, quattro, tre, due, scendi giù di nuovo, and it's, quattro, tre, due! Tengo la posizione, più che puoi, tieni gli abdominali tesi, quattro, tre, due! e cambi lato! Ci piace! La c'è Turbo Gag, Turbo Gag, tutto, 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 per le nostre butt and gut, come si dice in inglese, ok? Andiamo, su e scendo, e due, tre, quattro, rimango su, tieni la posizione, quattro, tre, due! e scendo giù di nuovo, giù, e su, due, tre, quattro, ancora, one more, ancora uno, e tieni! Teniamo la posizione, quattro, tre, due! e stop! E ecco, un altro esercizio fatto insieme! Complimenti e vi aspetto alla prossima! Vi ho detto che mi piace tantissimo la plancia, perché la plancia in tutte le salse vanno benissimo per i nostri addominali, allora, specialmente il nostro core muscles, così, scendiamo giù, gomiti giù, sollevo i fianchi, a questo punto però, dondelleremo a destra e sinistra, ok? Proprio fianco destro, fianco sinistra, sollevando l'ombilico ogni volta che passo da un lato all'altro, ok? Sollevo e giro, continui, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, tiri addominali belli tesi, vai, 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 continui, 4, 3, 2, ancora! Dominali tesi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ottimo otto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax! Wow! Un altro esercizio del nostro TurboGag insieme, eccellente, ti aspetto al prossimo esercizio!